Dai, vai! Vedete questo ragazzo come si diverte? Lo fa grazie a noi, AGP, App & Games Producers. Siamo un'azienda che produce app e videogiochi e propone un business innovativo programmato sulle idee di marketing per bambini e ragazzi. I nostri punti di forza sono qualità ed efficienza, innovazione e sicurezza. La nostra azienda è in possesso della certificazione ISO 9001 ed ha quindi la necessità e l'esigenza di migliorare i suoi standard produttivi ogni anno. Questo strumento ci permette quindi di avere un controllo attento sui costi, aumentare la produttività e ridurre gli sprechi. Per quanto ci riguarda innovazione, significa essere in grado di creare videogiochi che siano perfettamente compatibili con le ultime tecnologie e hardware presenti nel mercato, ovviamente per raggiungere più semplicemente il nostro target. Ad esempio, stiamo per lanciare un nuovo videogioco che sarà facilmente scaricabile sul nostro sito internet e inoltre sarà compatibile con le migliori console in circolazione. I nostri videogiochi sono privi di scene di violenza e inoltre sono adatti per bambini e ragazzi di età comprese tra i 3 e i 16 anni. Inoltre possiedono il marchio Eopegio che è riconosciuto dalla Commissione Europea. Per sopportare i nostri ideali ci siamo basati su statistiche effettuate nel 2013 sul territorio italiano. Infatti, come si nota da questi storramma, la percentuale di bambini e ragazzi che iniziano a giocare in una fascia compresa tra i 5 e i 16 anni è molto alta. Agili! Up and Games Producers Ragazzi, play with your brain! Io sono Paolo, Chiara, Lorenzo, Luca, Filippo, Giuseppe, Pierluca, Riccardo, Licia, Paolo, Ciada. Grazie.